Classifica che dopo il percorso della Svizzera di Klinsulmoni diventerà ufficiale, lui l'ultimo binomio al Viense, la GMB Van der Den Haag è il numero 42 testiera per questo sauro che nasce da Kashmir Van Sutersov e una figlia di Ludo Dermen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti